Sono quasi le sette, direi che è l'ora del primo brimisi. Ho dimenticato il vero motivo per cui siamo qui oggi. Sono il primo genito, credo che sia il mio dovere. Dico bene, è il mutuo. Sarà un shock. I capelli! Puttana di merda! Puttana di merda! Andiamo fuori! Devi morire male! Lui è... è fatto così. Io non ce la faccio più. Ma prima del brimisi avrei preparato un piccolo discorso in onore di mio padre. Discorso! Discorso! Ecco, in verità ne avrei preparati due. Vorrei che scegliessi tu papà. Uno è verde e l'altro è giallo. Scirlo! Il verde. Il verde. Questa è una scelta davvero interessante. E la cultura è un grande ruota. Irma mi frore! La cultura è un grande ruota. Ma cosa sono un grande ruota? E' un grande ruota.